pirandello una giornata strappato dal sonno forse per sbaglio e buttato fuori dal treno in una stazione di passaggio di notte senza nulla con me non riesco a riavermi dallo sbalordimento ma ciò che più mi impressiona è che non mi trovo addosso alcun segno della violenza patita non solo ma che non ho neppure un'immagine neppure l'ombra confusa dal ricordo mi trovo a terra solo nella tenebra di una stazione deserta e non so a chi rivolgermi per sapere cosa mi è accaduto dove sono ho solo intravisto un lanternino cieco a corso per richiudere lo sportello del treno da cui sono stato espulso il treno è subito ripartito è subito scomparso nell'interno della stazione quel lanternino col riverbero vagellante del suo lume vano nello stordimento non mi è neppure passato per il capo di corrergli dietro per domandare spiegazioni e far reclamo ma reclamo di che con infinito sgomento mi accorgo di non aver più idee ad essermi messo in viaggio sul treno non ricordo più affatto di dove sia partito dove diretto e se veramente partendo avessi con me qualche cosa mi pare nulla nel vuoto di questa orribile incertezza subitamente mi prende il terrore di quello spettrale lanternino cieco che è subito ritirato senza fare alcun caso della mia espulsione dal treno è dunque forse la cosa più normale che a questa stazione si scenda così nel buio non riesco a discernere il nome la città mi è però certamente ignota sotto i primi squalli di ballumi dell'alba sembra deserta nella vasta piazza livida davanti alla stazione c'è un fanale ancora acceso mi ci appresso mi fermo e non usando alzare gli occhi atterrito come sono dall'eco che hanno fatto i miei passi nel silenzio guardo le mani ma le osservo per un verso e per l'altro le chiudo le riapro mi tasto con esse mi cerco addosso anche per sentire come son fatto perché non posso più essere certo nemmeno di questo che io realmente esista e che tutto questo sia vero poco dopo inoltrandomi fin nel centro della città vedo che a ogni passo mi farebbero restare dallo stupore se uno stupore più forte non mi vincesse nel vedere che tutti gli altri pur simili a me ci si muovono in mezzo senza punto badarci come se per loro siano le cose più naturali e più solite mi sento come trascinare ma anche qui senza avvertire che mi si faccia violenza solo che io dentro di me ignaro di tutto sono quasi da ogni parte ritenuto ma considero che se non so neppure come né di dove né perché ci sia venuto come posso aver torto io certamente e ragione tutti gli altri che non solo pare lo sappiano ma sappiano anche tutto quello che fanno sicuri di non sbagliare senza la minima incertezza così naturalmente persuasi a fare come fanno che ma tirerai certo la meraviglia la riprensione forse anche l'indignazione se o per il loro aspetto o per qualche loro atto o espressione mi mettesse a ridere o mi mostrassi stupito il desiderio acutissimo di scoprire qualche cosa senza farmene accorgere devo di continuo cancellarmi dagli occhi quella certa permalosità che di sfuggita tante volte nei loro occhi hanno i cani il torto è mio se non capisco nulla se non riesco ancora a raccapezzarmi bisogna che mi sforzi a far le visite ad esserne anch'io persuaso e che mi ingegni di far come gli altri per quanto mi manchi ogni criterio e ogni pratica nozione anche di quelle cose che paiono più comuni e più facili non so da che parte rifarmi che via prendere che cosa mettermi a fare possibile però che io sia già tanto cresciuto rimanendo sempre come un bambino e senza aver fatto mai nulla avrò forse lavorato in sogno non so come ma lavorato ho certo lavorato sempre e molto molto pare che tutti lo sappiano del resto perché tanti mi si voltano a guardarmi e più di uno anche mi saluta senza che io lo conosca resto dapprima perplesso se veramente il saluto si è rivolto a me mi guardo accanto mi guardo indietro mi avranno salutato per sbaglio ma no salutano proprio me combatto imbarazzato con una certa vanità che vorrebbe eppur non riesce a illudersi e vado innanzi come sospeso senza potermi liberare da uno strano impaccio per una cosa lo riconosco veramente meschina non sono sicuro dell'abito che ho addosso mi sembra strano che sia mio e ora mi nasce il dubbio che salutino quest'abito e non me e io intanto con me oltre a questo non ho più altro torno a cercarmi addosso una sorpresa nascosta nella tasca in petto della giacca tasto come una bustina di cuoio la cavo fuori quasi certo che non appartenga a me ma a quest'abito non mio è davvero una vecchia bustina di cuoio gialla scolorita slavata quasi caduta nell'acqua di un ruscello o di un pozzo e ripescata la apro o piuttosto ne stacco la parte appiccicata e vi guardo dentro tra poche carte ripiegate illegibili per le macchie che l'acqua vi ha fatte diluendo l'inchiostro trovo una piccola immagine sacra ingiallita di quelle che nelle chiese si regalano ai bambini e attaccata ad essa quasi dello stesso formato è anch'essa sbiadita una fotografia la spiccicola osservo è la fotografia di una bellissima giovane in costume da bagno quasi muda con tanto vento nei capelli e le braccia levati vivacemente nell'atto di salutare ammirandola pur con una certa pena non so quasi lontana sento che mi viene da essa l'impressione se non proprio la certezza che il saluto di queste braccia così vivacemente levate nel vento si è rivolto a me ma per quanto mi sforzi non arrivo a riconoscerla è mai possibile che una donna così bella mi sia potuta sparire dalla memoria portata via da tutto quel vento che le scompiglia la testa certo in questa bustina di cuoio caduta un tempo nell'acqua questa immagine accanto all'immagine sacra ha il posto che si dà a una fidanzata torno a cercare nella bustina e più sconcertato che con piacere nel dubbio che non mi appartenga trovo in un ripostiglio segreto un grosso biglietto di banca chissà da quanto tempo lì riposto e dimenticato ripiegato in quattro tutto logoro e qua è labucherellato sul dorso delle ripiegature giallise sprovvisto come sono di tutto potrò darmi aiuto con esso non so con qual forza di convinzione l'immagine ritratta in quella piccola fotografia ma sicura che il biglietto è mio ma c'è da fidarsi di una testolina così scompigliata dal vento mezzogiorno è già passato casco dal languore bisogna che prenda qualcosa ed entro in una trattoria che maraviglia anche qui mi vedo accolto come un ospite di riguardo molto gradito mi si indica una tavola apparecchiata e si scosta una seggiola per invitarmi a prendere posto ma io sono trattenuto da uno scrupolo focenno al padrone e tirandolo con me in disparte gli mostro il grosso biglietto logorato stupito lui lo rimira pietosamente per lo stato in cui è ridotto lo esamina poi mi dice che senza dubbio è di gran valore ma ormai da molto tempo fuori di corso però non tema presentato alla banca da uno come me sarà certo accettato è cambiato in un'altra più spicciola moneta corrente così dicendo il padrone della trattoria esce con me fuori del luce di strada e mi indica l'edificio della banca lì presso ci vado e tutti anche in quella banca si mostrano lieti di farmi questo favore quel mio biglietto mi dicono è uno dei pochissimi non rientrati ancora alla banca la quale da qualche tempo a questa parte non dà più corso se non ai biglietti di piccolissimo taglio me ne danno tanti e poi tanti che ne resto imbarazzato o quasi oppresso e quasi oppresso ho con me solo quella naufraga bustina di cuoio ma mi asortano a non confondermi c'è rimedio a tutto posso lasciare quel mio denaro in deposito alla banca in conto corrente fingo ad aver compreso mi metto in tasca qualcuno di quei biglietti è un libretto che mi danno in sostituzione di tutti gli altri che lascio e ritorno alla trattoria non vi trovo cibi per il mio gusto temo di non poterli digerire ma già si deve essere sparsa la voce perché io se non proprio ricco non sono certo più povero e infatti uscendo dalla trattoria trovo un'automobile che mi aspetta e un autista che si leva con una mano il berretto e apre con l'altra lo sportello per farmi entrare io non so dove mi porti ma come ho un'automobile si vede che senza saperlo avrò anche una casa ma sì una bellissima casa antica dove certo tanti prima di me hanno abitato e tanti dopo di me abiteranno sono proprio miei tutti questi mobili mi ci sento estraneo come un intruso come questa mattina all'alba la città ora anche questa casa mi sembra deserta ho di nuovo paura dell'eco che i miei passi faranno muovendomi in tanto silenzio l'inverno passera prestissimo ho freddo e mi sento stanco mi faccio coraggio mi muovo apro a caso uno degli usci resto stupito di trovare la camera illuminata la camera da letto e sul letto lei quella giovane del ritratto viva ancora con le due braccia nude vivacemente elevate ma questa volta per invitarmi ad accorrere a lei e per accogliermi tra esse festante è un sogno certo come in un sogno lei su quel letto dopo la notte la mattina all'alba non c'è più nessuna traccia di lei e il letto che fu così caldo nella notte è ora a toccarlo gelato come una tomba e c'è in tutta la casa quell'odore che cova nei luoghi che hanno preso la polvere dove la vita è appassita da tempo e quel senso duggiosa stanchezza che per sostenersi ha bisogno di ben regolate e utili abitudini io ne ho avuto sempre orrore voglio fuggire non è possibile che questa sia la mia casa questo è un incubo certo ho sognato uno dei sogni più assurdi quasi per avere la prova vado a guardarmi a uno specchio appeso alla parete di rimpetto e subito ho l'impressione da negare atterrito in uno smarrimento senza fine da quale remota lontananza ai miei occhi quelli che mi pare d'avere avuti da bambino guardano ora sbarrati dal terrore senza potersene persuadere questo viso di vecchio io già vecchio così subito e com'è possibile sento picchiare all'uscio ho un sussulto ma annunziano che sono arrivati i miei figli i miei figli mi pare spaventoso che da me siano potuti nascere figli ma quando li avrò avuti ieri ieri ero ancora giovane è giusto che ora da vecchio li conosca entrano reggendo per mano bambini nati da loro subito corrono a sorreggermi amorosamente mi rimproverano d'essermi levato di letto premurosamente mi mettono a sedere perché la fanno mi cessi io la fanno ma sì loro sanno bene che non posso più stare in piedi e che sto molto molto male seduto li guardo e li ascolto e mi sembra che mi stiano facendo in sogno uno scherzo già finita la mia vita e mentre sto a osservarli così tutti curvi attorno a me maliziosamente quasi non dovessi accorgermene vedo spuntare nelle loro teste proprio sotto i miei occhi e crescere crescere non pochi non pochi capelli bianchi vedete se non è uno scherzo già anche voi i capelli bianchi e guardate guardate quelli che ora sono entrati da quell'uscio bambini ecco è bastato che si siano appressati alla mia poltrona si sono fatti grandi e una quella è già una giovanetta che si vuol far largo per essere ammirata se il padre non la trattiene mi si butta a sedere sulle ginocchia e mi cinge il collo con un braccio posandomi sul petto la testina mi viene l'impeto di balzare in piedi ma debbo riconoscere che veramente non posso più farlo e con gli stessi occhi che avevano poc'anzi quei bambini ora già così cresciuti rimango a guardare finché posso con tanta tanta compassione ormai dietro a questi nuovi miei vecchi figliuoli a questi nuovi a questi nuovi Grazie a tutti